Cosa è l'acne? L'acne è una malattia della pelle spesso caratterizzata da infiammazione della pelle, erozione delle lesioni. Questa condizione è diffusa, in particolare durante l'adolescenza, e la maggior parte delle persone lo sperimentano in qualche momento della loro vita. Ci sono molti miti su quali sono le cause e le cure contro l'acne, e un'enorme industria si è sviluppata attorno a prodotti intesi a prevenire e curare la malattia, specialmente negli adolescenti. Per capire l'acne, è importante capire almeno in sostanza che aspetto ha un follicolo pilifero. Il follicolo è sepolto nella pelle, e da esso cresce un pelo, rompendo la superficie della pelle. Attaccati al follicolo sono le ghiandole sebacee, che producono un olio, chiamato sebo, che aiuta a mantenere la pelle sana. L'acne si verifica quando, per qualsiasi motivo, il follicolo pilifero si blocca il sebo si accumula sotto la pelle. In quel ricco ambiente, i batteri iniziano a crescere, causando alla fine brufoli. Sebbene molte persone considerino l'acne solo come la forma rossa scoppiata, spesso indicata come zitto brufolo, include anche alcune forme non infiammate, note come comedoni. I comedoni si presentano in due forme, brufoli e punti neri. Si forma una testa bianca quando la massa di batteri e sebo formata da un follicolo bloccato rimane sotto la superficie della pelle e può essere estremamente piccola, a volte anche invisibile agli occhi. Si forma un punto nero quando la massa è rotta e aperta sulla superficie, permettendo alla melanina nel sebo intrappolato di ossidarsi e diventare nera. Idealmente, queste forme di acne non infiammate alla fine drenano il sebo e i batteri accumulati sulla superficie e la pelle guarisce. Spesso, tuttavia, la parete interna del follicolo si rompe a causa della pressione interna o, più comunemente, a causa del prelievo sulla pelle. Una volta che questo accade, i globuli bianchi si riversano nel follicolo già gonfio per combattere i batteri e l'acne si infiamma in quella che viene chiamata papula. A questo punto, l'acne è ancora in gran parte sotto la pelle, e sebbene sia visibile ad occhio nudo, è più come una sezione di pelle arrabbiata che come ciò che la maggior parte della gente chiama un brufolo. Il brufolo si forma quando i globuli bianchi che combattono con i batteri si dirigono verso la superficie della pelle, scoppiando in una grossa massa bianca o giallo-biancastra. Casi veramente gravi possono portare ad un'infiammazione estrema sotto forma di cisti o noduli. L'acne non è del tutto comprensibile, ma è opinione della maggior parte delle persone che la dieta in realtà ha poco o nulla a che fare con il suo sviluppo. Tradizionalmente, molte persone credevano che certi cibi, come cibi grassi o cioccolato, causassero il brufoli, ma la maggior parte degli studi ha dimostrato che questo non è il caso. Il trattamento dell'acne può essere fatto con qualsiasi numero di lozioni e creme, contenenti per lo più per ossido di benzoile o acido salicilico, ma uno dei modi migliori per trattare la condizione è semplicemente quello di lavare regolarmente il viso con acqua tiepida e un sapone molto delicato, riducendo la quantità di olio sulla pelle che può accumularsi e causare il blocco.